Nell'ambito dei progetti legati al filone ecosistema mare, la Fondazione Polo Universitario di Grosseto ha siglato un accordo con l'ASD Waterworld by Alessandra Sensini per avvicinare i giovani allievi del camp alla biologia marina. Un esperimento perfettamente riuscito. Una delle iniziative che stiamo facendo come Polo Universitario Grossetano per avvicinare i bambini a quello che è il mondo della biologia, in questo caso biologia marina. Ogni venerdì facciamo delle lezioni sia teoriche che pratiche per i ragazzi che seguono il camp in collaborazione tra Polo Universitario Grossetano, l'Università di Siena e appunto Waterworld di Alessandra Sensini. Cerchiamo di far capire ai bambini quanto è importante e prezioso e anche affascinante l'ecosistema mare. Alla fine abbiamo comunque creato un qualcosa di pratico dove loro possono imparare a conoscere un po' la biodiversità del mare e questo fa parte un po' del progetto Water Camp che vuole dare a questi ragazzi il conoscere il mare per ci stare attraverso lo sport, attraverso tutte le discipline. Deve essere un modo per vivere il mare in maniera gioiosa. Ringrazio tantissimo il Polo Universitario che ci ha dato la possibilità di questa collaborazione e di insegnare a questi ragazzi dei principi che gli rimarranno, credo, impressi per sempre. Che esperienza è stata questa mattina? È stata bellissima, mi è piaciuta molto. Abbiamo mostrato il DNA dalla banana e alcuni anche dalle alghe.